Buonasera a tutti quanti, buon weekend, un weekend alla ricerca ovviamente dell'estate e con l'estate abbiamo, da una parte molto, le giornate più lunghe siamo contenti ma questo caldo torido ha purtroppo, spesso e volentieri, un effetto un po' comprimente sull'energia, da una parte vogliamo recuperare o vogliamo andare in vacanza quando andiamo in vacanza cominciamo a concederci più riposo che da una parte è molto importante però io sono sempre convinta che almeno 15 minuti al giorno, se arrivano a 30 minuti al giorno è ancora meglio ma almeno 15 minuti al giorno è fondamentale per non perdere tutto quello che abbiamo ottenuto con un allenamento tutto l'anno e poi volevo parlarvi delle infiammazioni, in inglese si chiama inflammation, l'infiammazione che fa invecchiare il corpo tanti, ma poi tanti, ma tante persone mi dicono come è possibile che sembri sempre più giovane come è possibile che i tuoi capelli, cioè tanti sistemi del mio corpo, ok? dalla pelle al metabolismo, all'energia, cioè io ho tanta energia, mi sveglio la mattina, bombattone sto facendo un sacco di registrate per la mia palestra online perché mi porto avanti perché in agosto anche io prenderò mia pausa di 10-20 giorni proprio per calmarmi però farò sempre sport, magari sarà più, non dietro le telecamere, faccio sempre qualcosa ma voglio parlare di inflammation, infiammazione può essere alimentare, per esempio lo zucchero buono come, cioè adoriamo lo zucchero, ma lo zucchero addirittura può aumentare l'infiammazione nel corpo a creare problemi articolari, l'infiammazione aumenta l'acidità del nostro corpo, l'infiammazione fa comportare le nostre cellule di grasso in modo sbagliato, producendo più leptina finché il cervello diventa talmente sensibile alla leptina che diventa resistente alla leptina che controlla il metabolismo e l'assenso di sazietà, quindi comincio ad avere sempre fame e il metabolismo un po' più soppressa perché la leptina aiuta al nostro, diciamo, peso corporeo e tu cominci ad ingrassare, sei infiammato, mal di ossa, non dormi bene, comincerai magari a avere la pancia sempre gonfio, mal di testa e ritemi e potremo andare avanti perché inflammation vuol dire l'infiammazione che fa invecchiare il corpo. Io sono veramente appassionata della mia luce light therapy e vi faccio vedere questa ragazza in sette giorni come utilizzando la mia maschera led, io uso la maschera led sulla faccia, la uso sulla pancia, la uso sulle braccia, la uso sulle cosce per rigenerare la pelle, ok? Ed è una cosa meravigliosa anche per il tono e il colorito della pelle perché comunque anche c'è fotoinvecchiamento che adesso siamo anche molto più esposti alla luce solare, la luce solare purtroppo snatura o fa interrompere le connessioni tra il collagene riducendo la qualità della pelle, ok? Per questo è anche molto importante, oltre all'infiammazione, a mettere in una bella protezione solare. Ma oggi volevo parlare di macroarie del mio mondo perché ci sono macroarie, c'è metabolismo e pelle, cellulite, microbioma, qualità del sonno e l'infiammazione e oggi sul mio sito gcuper.it l'offerta del giorno è immunofen. Immunofen è un adatto genico. Ok, che cos'è un adatto genico? Un adatto genico sono delle piante che aiutano il corpo ad adattarsi ai stressori che possono essere psicologici, ambientali, alimentari, fisiologici, body burden. Body burden vuol dire magari tossine, vuol dire vivo in una città dove c'è più smog, può essere che sono stressata dal lavoro, può essere tantissime cose che vanno ad aggredire il corpo producendo una risposta stressore di produzione eccessiva degli ormoni legati al stress e questo potrebbe rendere il nostro intestino poroso, che potrebbe ridurre la qualità del nostro sistema immunitario, che potrebbe poi andare a creare le infiammazioni nel corpo, acidità nel corpo e potrebbe proprio veramente andare avanti. Allora, immunofen combatte i germi e il tuo corpo è impegnato in tutti i compiti della tua vita, da camminare, a lavorare tutto il giorno. Quando vai a letto il tuo corpo rivolge l'attenzione al sistema immunitario. Proteine, globeli bianche e altre sostanze vengono inviate per combattere i germi, infezioni e malattie. Le mancanze di sonno può effettivamente ridurre la resistenza alle infezioni e le malattie, perché questo potenzialmente il sistema immunitario non viene completato di notte, ecco perché sono così fissato con il sonno, e aumentare il sonno quando stai combattendo la malattia e l'infezione consente al tuo sistema immunitario di avere più tempo per svolgere il suo lavoro e aiuta con il recupero. Ma c'è anche un'altra cosa, l'immunofen fisiologicamente, fitoterapicamente ha delle piante che aiuta a calmare la produzione eccessiva di certi ormoni, perché noi abbiamo la mente a volte dice ah, sono ansiosa, devo fare qualcosa che mi calma nei miei nervi. Per carità, fai fluid, fai meditazione, fai mindfulness, senti la musica, spegni il cellulare, provi di non essere ansioso, fai tecniche di respirazione. Ma le cose belle delle certi fitoterapici è che ti possono aiutare proprio fisiologicamente a ridurre la produzione di certi stressori, riducendo anche un altro prodotto che aiuta a ridurre la pH acido nel corpo. I goji, bacca di goji, possono aiutarti a ridurre la pH acido nel corpo. Altra cosa della bacca di goji che è molto interessante è che ovviamente i goji, essendo rossi, sono ricco di beto carotene, che ci possono aiutare a migliorare la qualità della vostra abbronzatura, proteggendo occhi, cuore, ok? Perché la beto carotene, perché la beto carotene non è vitamina A, è un percursore di vitamina A e il tuo corpo usa la beto carotene che trova dentro le bacche di goji per aiutarti poi a andare a produrre quanto ti serve e quanto ti serve. Ma guarda questa ragazza qua, questa ragazza prendeva bacche di goji. Che cosa vediamo? Questa protuberanza sul suo abdome, molto, molto pronunciato, legato a stress. Quando siamo stressati non riusciamo, non è che non riusciamo, che produce troppo cortisolo. Il cortisolo, come il cortisone, ha una tendenza di farci assorbire o trattenere più liquidi e mettere più grassi sulla pancia. Questa ragazza ha detto, guarda, non attacco più il mio marito. Sono più tranquilla da quando prende i goji, perché se vogliamo invecchiare bene, ragazzi, dobbiamo cominciare veramente a ridurre l'infiammazione nel corpo. Perché se tu cominci a dire, voglio essere magro e cominci a fare una dieta troppo esagerata, no, perché ci sono persone che fanno tante diete e non vado a elencarli perché non voglio ispirare nessuno a farli. Ma queste diete restrittive che dico, mangio soltanto un gruppo di macronutrienti e tolgo gli altri due, metto sotto stress il corpo. Se mi alleno troppo, metto stress il mio corpo. Se provo di rubare del mio sonno, la mia qualità del sonno e dormire soltanto 5-6 ore la notte, aumentano le infiammazioni nel corpo. Ma ci sono delle cose che noi possiamo fare per il nostro corpo per migliorare e mia ricerca è tutto questo. Andiamo a capire il sonno, perché questo è importante. Ok. Normale ciclo del sonno, quando andiamo a corecarci, ci siamo nella fase beta. Fase 1 comincia a essere la fase alfa, quando stiamo sonicchiando, dormiveglia, scendiamo e quelle stanno NREM, da fase 1 a fase 3, sono NREM, vuol dire senza rapid eye movement. Però nella fase 4, dove arriviamo soltanto durante le prime due fasi delle note, andiamo a fase 4, dove possiamo produrre la famosa HGH, che è il human growth hormone, meglio conosciuto come l'ormone della crescita. Io lo chiamo l'ormone della ricrescita. E se noi non siamo rilassati a tal punto di ridurre il cortisolo, che riduce la qualità del sonno, lasciandoci a dormire profondamente, noi non ci rigeneriamo di notte. Ci troviamo veramente molto stressati e gonfio. Allora, andiamo un po' per gradi di quelle e poi un'altra cosa che è un bellissimo prodotto per il nostro metabolismo, Mela Slim. Mela Slim ci aiuta l'integrità delle nostre pareti addominali, perché le pareti addominali con lo stress diventano, possono diventare porosi. Che vuol dire? Allora, abbiamo due fattori, abbiamo fight or flight, rest and digest. Il tuo corpo è molto bianco e nero, ragione in bianco e nero, non gli piace il grigio. Fight or flight vuol dire l'occhio fuggi e per l'attore a fuggire tutto viene dedicato a queste azioni imminente. Il sangue viene deviato alle mani, ai piedi, gli occhi li delatano, le orecchie diventi un po' un supereroe, ma discalpita di che cosa? L'apparato digerente. Rallenta il metabolismo, digestione e anche il flusso del sangue alle viscere, perché abbiamo fight or flight attivo, rest and digest, riposare e digerire, rilassante o rilassativo, se vogliamo dire. Avete mai notato dopo il pranzo di Natale vi viene un sonno madornale, cioè vi viene da dormire? Quello è il rest and digest, perché il tuo corpo per digerire vuole che tu stai fermo perché hai bisogno di dedicare i muscoli al movimento, alle viscere per digerire. Ma siccome adesso siamo sempre, 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 sempre in allerte sotto stress, poi non ti parlo di quanti esterismi ci sono dopo la lockdown, perché abbiamo avuto lo stress, si chiama risposto allo stressore, o stress response, risposto allo stress, che la gente è schizzato, siete infiammati, mentalmente siete infiammati, fisicamente siete infiammati e per ritornare calmi dobbiamo aiutare il corpo a recuperare immunofen adatto igienico, aiuta proprio questo. Ma il problema è se sono sempre stressata e il mio fisico mi sta mandando sempre input per essere lotti fuggi, lotti fuggi, lotti fuggi, lotti fuggi, lotti fuggi, il tuo povero intestino viene soffocato. E la parosità intestinale vuol dire che l'integrità del nostro intestino, che dovrebbe essere responsabile del nostro sistema immunitario, perché il 70% del GALT, gastro-associated lymphatic tissue, è legato al nostro sistema immunitario, perché stanno lì quelle sentinelle, perché l'apparato digerente, il tubo digerente, è fuori dal tuo corpo, non è dentro il tuo corpo. Tu mangi qua, ha un tubo di uscita finale, è dentro quel tubo che passa dall'esofago, allo stomaco, all'intestina tenua, poi al colon, è fuori dal tuo corpo. E tutti i sentinelli che stanno lì dicono, proteine passa, batterie fermati, virus no, carboidrato passo. Ma se il vostro intestino diventa poroso, comincia a passare tante molecole infiammatorie, aumentando l'infiammazione nel corpo, aumentando ulteriormente la risposta stressante, o del stressore, o del cortisolo. E che cosa comincia immediatamente a essere ridotta? Metabolismo. Ciao metabolismo, è stato bello conoscere il metabolismo, perché la TSH è inversamente correlato al cortisolo. Così, il tuo metabolismo dice, ti aspetto che finisci a lottare con la tigre, con lo stressore, con qualunque altro stress immenente, e ti trovi ingrassato, irrigidito, non dormi bene, i capelli cominciano ad irradarsi, cominci a notare che ti amali più facilmente. Tante cose possono succedere. Allora, nel mio mondo, che è gcooper.it, ci sono tanti prodotti che ti possono aiutare a stare meglio. Ovviamente immunofen è uno di questi, ma volevo anche farvi sentire stress block. Stress block è un altro prodotto che aiuta a ridurre il stress, ridurre l'eccessivo infiammazione nel corpo e aiutarti a dormire molto meglio. Scusate, lo sto cercando. Ok, perché lo stress fa male. Andiamo a vedere come lo stress fa male. Allora, lo stress fa male su diversi fattori, perché lo stress, aspetta, parti, sciò. Ecco, lo stress fa male perché lo stress agisce sulla concentrazione, qualità del sonno, energia, e può farti ingrassare, crea insonnia, debilita il sistema immunitario, e sui nervi aumenta la produzione di cortisolo, creando resistenza in insulina e depositando più grasse sulle viscere. Sul cuore può aumentare la pressione, infiammando il coronario e creando rischi, proprio picchi insulinici, glucosi nel sangue. Invece noi abbiamo la possibilità, anche su questo intestino, di avere i problemi dell'areofagia. L'areofagia, abbiamo problemi di mal di testa, dolori muscolari, sudorazione eccessiva, eriteme, poca asciutta, infatti attacchi di panico, e ci sono tanti, tanti stress block, ashwagand non tonico, adatto genico per la stanchezza fisica mentale, benessere mentale, naturali difese dell'organismo. Abbiamo grifogna per l'umore, per il benessere mentale, controllando il senso di fame, e le nostre vitamine B, che riducono la stanchezza, danno più metabolismo energetico, ti aiutano ad uscire da questo mondo di panico. Immunofen, stress block, bacca di goji, mela slim. Ok? Però andiamo a ascoltare un'amica che ha provato stress block e vediamo come si è trovata. Stress block lo prendo la sera, più o meno un'oretta prima di andare a dormire. Niente, sono più rilassata e riesco a prendere il sonno un po' prima del solito, perché io facevo tanta fatica a addormentarmi, però con lo stress block ho notato che riesco a rilassarmi un po' prima, mi addormento e il sonno mi diventa un po' più profondo. La mattina mi piace poco risvegliarmi, però mi sveglio più riposata, diciamo, e la colazione non mi va di farmela subito, proprio non ho fame. E non ho neanche più, ecco, ti dirò un'altra cosa. Io dopo pranzo avevo quella stanchezza, proprio che mi sentivo che avevo bisogno di mezz'ora sul divano. Non lo cerco più. Non ho più la fame nervosa appena svegliata la mattina. Sono più rilassata anche durante la giornata. Insomma, mi aiuta parecchio a rilassarmi, non a dormire, a rilassarmi, a essere più tranquilla, a affrontare la giornata più tranquilla. E quando siamo più tranquilli, allora, per il vostro sistema immunitario, inflammation, ok, vi consiglio immunofen, ProBioactive, che sono probiotici, Latoferina, che è stato studiato per aiutare anche con il virus Covid, Biogrape, che è Pompelmo e Ganoderma insieme, che sono due prodotti che aiutano proprio come effetto d'urto. Se c'hai... senti che ti sta arrivando un'influenza, un raffreddore, prendi Biogrape e te la sblocca. Veramente molto potente come antivirale. Ganoderma, che è considerato il fungo delle immortalità, aiuta a ridurre la stanchezza, aiuta a dormire più profondamente il Ganoderma, funziona già entro il primo giorno, però è un fungo. Scusate se avete problemi di intolleranza a funghi, non lo potete prendere. Stress block, che abbiamo appena detto, è melissa composta. Invece per quanto riguarda il microbioma, ok, microbioma è quello famoso intestino poroso. Microbioma, una dispiosi della microbioma può creare infiammazioni nel corpo, così il mio consiglio per la microbioma, ovviamente senza possibilità di fare una campionatura del tuo microbioma. Microbioma è fondamentale per tutto, per fame, per il senso di tranquillità nel vostro corpo, per il metabolismo, per la pelle, per la pancia piatta, per dormire bene, per non essere depressi, perché il 90% della serotonina è prodotto nella nostra pancia. Così per il microbioma vi invito di fare ProBioactive, Enzimax. Enzimax è un quadro completo di enzimi digestivi, ok? Enzimi digestivi e erbe che sono protettore, che aiutano a funzionalità epatiche, perché il nostro fegato è il filtro più importante del nostro corpo e poi tra l'altro il fegato sano brucia più calorie, brucia circa 28% di tutte le calorie della vostra rata metabolica basale e grazie al nostro, come si chiama, al nostro fegato. Ma ti faccio vedere che cos'è il nostro Enzimax. Allora, Enzimax è veramente un prodotto molto completo e aiuta perché è enzimi digestivi più carciofo, cardomariano, cicoria B6, che aiutano proprio a ridurre la fiammazione, perché è una buona digestione la base della nostra salute. Metabolismo dei lipidi, funzioni epatiche, depurando l'organismo, drenando i liquidi corporei, eliminando il gas intestinale. Poi, cardomariano, funzioni digestive, funzioni epatiche, ci aiuta a depurare l'organismo, ci aiuta proprio a sentire più leggeri. Cicoria, drenaggio dei liquidi corporei, transito intestinale, un prebiotico che nutre le nostre probiotici, più amilasi, proteasi, glucosiamilasi, lipasi, cellulasi, che si aiutano agli enzimi digestivi a proteggere proprio la nostra parete intestinale. Aspetta, vi volevo far sentire questa ragazza anche, che parlava, chiama Laura, e parla del proprio active. Ok, ecco, Sara ci parla dell'Enzimax, che ha intolleranze e vediamo come si è sentito più leggera grazie a questo fitotrafico. Sono intollerante al lattosio e leggermente al glutine, perciò ho difficoltà nella digestione. Con Enzimax ho notato che riesco a dormire bene perché digerisco velocemente quello che mangio, nel senso non mi rimane sullo stomaco e non ho problemi poi quando vado a dormire. Da quando prendo Enzimax non ho avuto più problemi di digestione, perciò non ho avuto più quelli, battiti oppure nause che mi preoccupavano precedentemente. E allora, cioè ci sono tanti 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 prodotti, ovviamente io ho decine se non centinaia di prodotti e ogni tanto quando vengo a parlare è difficile parlare di tutti e parlare diversamente ed è importante potete magari entrare o anche farmi delle domande, che potete fare domande a Jill su gilcuber.it, troverete domande a Jill, una peccetta rosso in home page, dove mi potete scrivere per farmi delle domande personali e dire, Jill, questo, questo, questo e io tento di aiutarvi a capire al meglio come integrare nella vostra vita. integrazione non è assolutamente medicale, questo è molto importante, non mi fate domande medicali perché non sono un medico e non te la posso assolutamente rispondere su questo, però vi posso aiutare a capire qual è il movimento giusto per te, quale potrebbe essere il fitoterapico che potrebbe potenziare la vostra vita e aiutare a darvi risultati. Ma adesso ascoltiamo Laura per quanto riguarda il probiotico. Ho iniziato a usare i probiotici di QQ per circa un mese fa, quando ho iniziato ad usarli ho sentito un benessere generale del mio corpo, è migliorata tantissimo la qualità della pelle, infatti è più luminosa, più radiossa e vado anche più regolarmente al bagno, ho acquistato più inserizzato in calma e anche la qualità del fondo è migliore. Ho notato anche che ho perso un chilo da quando ho iniziato ad usarli e ho perso 3 cm gli altri. Perché quando noi andiamo a proteggere l'integrità delle pareti addominali o porosità intestinale automaticamente andiamo a potenziare il metabolismo. Molte persone pensano sempre, ah per fare per il metabolismo devo mangiare di meno e prendere i bruciagrassi, no a volte aumentate di nuovo l'infiammazione nel corpo se andiamo ad aggredire nel nostro corpo. Così per il microbioma, ProBioactive, Enzymax, Curcumax immunofen, aloe vera che non produco ma lo uso perché la uso nella mia pianta e la preparo proprio per me e digiuno all'intermettenza molto molto positivo per il vostro intestino, gratuito, non è una dieta, digiuno all'intermettenza applicata alla vostra vita. Allora, una ragazza, Carla, sta dicendo, si, ho venduto più di, veramente più, però direi più di 500.000 integratori nella mia vita, più di 500.000 DVD nella mia vita, più di un milione di AB Rocket nella mia vita e la verità è che se sei consistente e costante tu avrai risultati. La cosa importante è di provare su di te perché non c'è una pacchetta magica, c'è uno stile di vita. Stile di vita, movimento, digiuno all'intermettenza, dormire bene, integrare, usare anche magari le maschere, le coppe, la pedane vibrante, delle cose che ti possono aiutare per vivere a meglio e sono cose che ti possono dare risultati. Deborah, Enzymax, si può insumere assieme al caffè verde? Sì, Enzymax è per digerire. Il caffè verde è un antiossidante che aiuta il metabolismo. Non si, non si, non sono doppioni, non so come spiegare, non si sovropongono, si sostengono. Allora, ciao Elenia, ciao Valentina, ho comprato la pedane vibrante, brava, perché c'è la pedane vibrante su GM24 questo weekend, super scontato per il meglio del compleanno, se volete. Sto facendo 15 minuti al giorno, Valentina, Wonder Valley, Castagnole, nome grandissimo. Ma penso, sì, allora, si arriva, allora, sto facendo 15 minuti al giorno, ma penso di arrivare a 20 prossima settimana, mi trovo benissimo, ora voglio anche prendere le coppette. Oh, le coppette sono una bomba, ragazzi. Le coppette aiutano tantissimo. Monica, stamattina ho fatto un'ora di fluid calistenico membro gold. Quando parli di membro gold, Monica sta parlando di NOW, la mia palestra online dove c'è i bikini challenge, che sono 15 minuti di allenamento ogni mattina, online, entro le sei e mezza di mattina. Vi svegliate, vi allenate e proseguite con la vostra giornata. Non fatevi prendere dalla pigra estiva, perché la pigra estiva, mi rendo conto, fa caldo. Se fa tanto caldo, prendete Farmaven, ragazzi. Farmaven aiuta anche le vostre, le gambe pesante, ti aiuta a sentire le gambe più leggere e ti aiuterà con le, come si chiama anche, il microcircolo. E quando il microcircolo funziona meglio, la pressione non si abbassa e le gambe si drenano e ti senti molto meglio. Poi c'è la postura, arterigen, BCAA, immunofen, quantares, trampolino, Skin Renew, Curcumax, Be Good, o per macroarie, tanti prodotti che lavorano in sinergia. Allora, Daniela, ho bisogno di perdere 5 chili, cosa posso fare? Allora, Daniela, 5 chili, probabilmente legato a set point, perché le ultime 3, 4, 5 chili sono sempre quelle legate, sono quelle più difficili da perdere, no? Più facile avere 15 e poi rimangono quelle 8.500, perché dipende della tua età, se sei in menopausa, quando ti muovi, come ti mangi, ci sono tante cose, dire soltanto è perdere 5 chili. Ovviamente se comincio con Metaboost, Metaboost che è mattina e sera e comincio a aiutarmi a aumentare il metabolismo, a migliorare la qualità del sonno, ti aiuterà, perché ricordate, quando io miglioro la qualità del sonno, automaticamente l'infiammazione comincia a diminuire. Se comincio a fare il digiuno in intermettenza, la nostra infiammazione comincia a diminuire e se uso anche fitoterapici, Caffe Verde, Metaboost, Forscolina, ti aiutano a carburare meglio, carburare più facilmente. Allora, vediamo, ho preso Garcinia Caffe Verde, brava, Daniela ha preso Garcinia Caffe Verde, vedremo se funziona. Vi faccio sentire qualcuno ha preso quei due prodotti e vediamo come si è trovato. Mi piace questo perché è un ragazzo, fammi vedere se riesco a trovare un ragazzo che ci parla di questi Caffe Verde, Garcinia e Cambogia insieme perché è molto simpatico la sua testimonianza. Ascoltate. Io ringrazio davvero HS24, che prendo Caffe Verde sia di Cambogia. Garcinia e Cambogia. Alla grande, ho perso quasi 14 chili, da 4 mesi. Tranquillo proprio. Eppure ero un mancione, eh? Non ho sentito niente. Però davvero un giovane di due, cinque anni. Davvero grazie. Mi sento un giovanotto. GIL funziona, sì che funziona. Grazie, grazie. Ragazzi, io spero che vi rendete conto dell'importanza di ridurre l'infiammazione nel corpo. L'offerta del giorno di oggi su gilcuber.it è Immunofen, che è un adatto genico. I dati genici aiutano il sistema corporeo ad adattarsi ai stressori che possono essere psicologici, ambientali, alimentari, fisiologici. E questo è come ci ha insegnato un caro Darwin. I corpi che riescono ad adattarsi al meglio agli stressori vivono più a lungo. Ok, l'altra cosa è che ogni giorno su gilcuber.it potete trovare il tutorial. Potete trovare un email dove potete farmi delle domande. Il mio mondo è legato a aiutarvi a vivere meglio. Vivere meglio riducendo l'infiammazione. Vivere meglio aumentando il metabolismo. Vivere meglio riducendo il dolore articolare. Vivere meglio aumentando l'energia. Perché quando abbiamo un'energia è la vita più figatosa, più divertente, più convolgente. E tutto questo è sul mio mondo. Se volete scoprirlo, va giù, gilcuber.it. Vi aspetto. Devo scappare perché c'è uno webinar sul mio palestro online, nowgilcuber.com, dove stiamo facendo il nostro bikini challenge. E io vi voglio bene, ragazzi. Vi auguro una giornata incredibile, un weekend spettacolare. e vi aspetto sempre sui miei social con consigli e tante, tante motivazioni. Baci dalla Jill.